Si avvicina la messa in scena dello spettacolo Mulan, la leggenda della donna guerriera organizzato dai genitori e dalle insegnanti della scuola dell'infanzia di San Giovanni con un musical coinvolgente, cantato, recitato e ballato. La storia narra di Mulan, una ragazza che nell'antica Cina, per evitare al malconcio padre di rispondere alla chiamata alle armi contro la discesa degli unni, decide di travestirsi da uomo e prendere il suo posto nonostante le rigide leggi del tempo, reputino questa presa di posizione oltraggiosa e condannabile con la vita. Tra mille avventure ed in compagnia del simpatico draghetto Mushu e di tre stravaganti soldati, Mulan capirà cos'è l'onore, la disciplina e il coraggio e insegnerà a tutti cosa sia l'amore per i propri cari, ma soprattutto che per realizzare ciò in cui si crede bisogna lottare fino alla fine. Le rappresentazioni vedranno in scena i genitori nei panni dei personaggi del celebre cartone con l'obiettivo di avvicinare i più piccoli al meraviglioso mondo del teatro. L'appuntamento è sabato 28 e domenica 29 marzo al Teatro dei Vigilanti di Portoferraio con quattro rappresentazioni in tutto. Il lavoro è stato tanto impegnativo quanto soddisfacente, sostengono dal gruppo. Le serate di prove sono state integrate con i pomeriggi in cui i numerosi figli dei partecipanti al progetto, che non frequentano più la scuola dell'infanzia, si sono uniti alla rappresentazione collaborando alla realizzazione di uno spettacolo che fino a qualche anno fa li vedeva spettatori. In attesa di concretizzare il lavoro nelle quattro rappresentazioni in programma, continuano dal gruppo teatrale, vogliamo ringraziare tutti coloro che condividono e credono nel progetto, l'istituto comprensivo di Portoferraio, il comune di Portoferraio che come ogni anno ci sostiene, Valburger per essere sempre al nostro fianco e Teletirreno Ilva. La magia prenderà vita grazie a coloro che hanno messo a disposizione nel proprio tempo e le proprie competenze per la riuscita di questo progetto. Appuntamento dunque per il 28 e 29 marzo, quando il Teatro dei Vigilanti vi trasporterà nell'affascinante cultura orientale e grandi epicili potranno giocare tra fantasia, musica e colori.